Musica Sabato 2 giugno, buongiorno e benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione. Con la regia di Michele Pece vediamo gli argomenti di questo primo notiziario. Parliamo di sanità e perché continuano gli effetti della gestione frattura d'innocenzo. Liquidati oltre 30.000 euro al superconsulente Giorgio Banchieri. Dirige l'osservatorio qualità dei servizi sanitari. Ce ne parla in questo servizio Pasquale Di Bello. L'amministrazione regionale è cambiata e al vertice della regione siede un nuovo presidente. Questo è un fatto certo, come altrettanto certo, che per cambiare le cose ci vorrà del tempo. Donato Toma dal canto suo ce la sta mettendo tutta, lavorando di buona lena, ma non è dotato di poteri sovraumani e nemmeno è mai stato tra i fantastici quattro. Occorrerà anche a lui del tempo per capire in quale ginepraio si sia ficcato. Tra quelli sul mercato, il ginepraio della sanità è sicuramente quello più grande. È in questo comparto che si è sviluppato lo scontro sociale più aspro, culminato nella gigantesca manifestazione del 18 maggio 2016, quando 6.000 persone scesero in piazza per protestare contro la riforma frattura. Presupposto della cura, lacrime e sangue imposta dall'ex governatore ai molisani, è stata la necessità di tagliare, ridurre, accorciare e, se possibile, azzerare spese ritenute superflue. Scelta alla quale sul piano pratico nel corso del tempo sono state apportate ampie ed abbondanti deroghe. Una di queste riguarda l'osservatorio qualità dei servizi sanitari, al vertice del quale la coppia dell'epoca frattura d'innocenzo misa il professor Giorgio Banchieri, già compagno di docenze della stessa Marinella d'innocenzo. Un contratto bello sostanzioso, circa 160.000 euro in due anni, la cui scadenza, è fissata al prossimo 5 giugno. In attesa che il contratto spiri al professor Banchieri lo scorso 23 maggio sono stati erogati 30.732 euro a titolo di liquidazione per le mensilità di dicembre 2017 e gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2018. Per questi mesi, come per tutti i mesi precedenti, il professore incaricato del servizio ha fornito un report delle proprie attività. Report che, a parte gli addetti ai lavori, si presume, nessuno ha mai letto. Aspettiamo adesso che sia il presidente Toma a rendere disponibile questa documentazione per i cittadini molisani. Sarà interessante comprendere quali attività siano state svolte e soprattutto quali eventuali proposte siano state formulate. L'osservatorio, come dice la stessa parola, osserva. Ma cosa ci fosse da osservare circa la qualità dei servizi sanitari regionali? È francamente una incognita. Lo stato penoso in cui tali servizi versano, nonostante l'abnegazione e la professionalità di medici, personale parasanitario e lavoratori, non ha bisogno di nessuna osservazione. Basta sbatterci la testa contro per rendersene conto, cosa che capita ad una messa infinita di cittadini ogni giorno, ai quali, però, non serve essere pagati profumatamente come il professor Banchieri per capirlo. Il prossimo 5 giugno il contratto scade e ci auguriamo che a nessuno venga in mente di rinnovarlo. A Termoli premiate le scuole vincitrici del concorso Il Valore del Latte. Alla singolare gara di creatività hanno partecipato centinaia di alunni provenienti anche da fuori regione. Il servizio di Fabrizio Occhionero. Un impegno consolidato negli anni è dedicato alla promozione di buone pratiche imprenditoriali che favoriscono la cultura di un'alimentazione corretta ed equilibrata. Il coinvolgimento di bambini e ragazzi nelle scuole di Abruzzo, Molise e Puglia ha confermato la bontà di un progetto giunto alla 27esima edizione. Il Valore del Latte, concorso promosso dalla del Giudice, ha trovato riscontro da numerosi istituti scolastici stimolando la creatività con un obiettivo lodevole e lungimirante. Ospite della cerimonia di premiazione è il maestro Tiziano Albanese. Il latte non va pensato soltanto come prodotto artigianale ma va pensato esattamente come l'olio, come il vino, quindi come un prodotto artistico dell'uomo. Questi ragazzi hanno messo in luce questo aspetto tramite poesie, disegni e canti e quindi siamo rimasti sorpresi. All'evento in sala consigliare a Termoli sono intervenuti tra gli altri il vicesindaco Maria Chimisto e il direttore amministrativo dell'azienda Nicola Demma, il responsabile del progetto didattico Pierluigi Evangelista, Fabio Di Camillo per la comunicazione, il presidente di giuria Giulio Corradi. Quest'anno il tema è stato latte ed arte, un tema forse il più azzeccato negli ultimi anni. Abbiamo ricevuto degli elaborati molto belli e molto interessanti. ringrazio il presidente di giuria di quest'anno, il professor Giulio Cortati, che ha avuto, non nego, anche la difficoltà negli individuari vincitori, tanto era l'elevato carattere di questi elaborati. È necessario che si continui in questo contesto di corretta alimentazione, di rispetto della nostra gloriosa piramide alimentare, oggi patrimonio mondiale dell'umanità. E con l'attività di studio, di ricerca, di verificare anche l'arte come nei secoli ha inneggiato a questo preziosissimo alimento, alimento principe. Targhe e premi per i vincitori, accompagnati dai docenti e dalle famiglie, con la presentazione dei lavori selezionati dalla giuria. E adesso vediamo il calendario degli eventi in programma oggi e domani a Campobasso, all'interno del cartellone del Corpus Domini. Alla mercato coperto di Via Monforte, edizione speciale del mercato contadino e artigiano a cura delle associazioni Slow Food Galdina e Slow Food Campobasso. Dalle 9 alle 19.30, aria verde via Matris, evento ludico sportivo, a cura dell'associazione sportiva dilettantistica Pro Molise. In piazza Municipio, mostra mercato Fierviecchie, a cura dell'associazione Amici del Collezionismo. In preparazione della diciassettesima edizione del concorso fotografico I Misteri, sotto il porticato di Palazzo San Giorgio, raccolta delle iscrizioni, a cura dell'associazione culturale fotografica 6 Torri. Al Campo Acli torneo nazionale giovanile di calcio Corpus Domini, a cura della polisportiva Acli di Campobasso. Fine in piazzetta Palombo alle 19.30, concerto del liceo musicale Galanti, a cura dell'associazione di quartiere Campobasso Nord. E infine, vi ricordo, alle 21.30, in piazza della Repubblica, concerto dei De Colors. Bene, questi gli argomenti del primo TG della giornata. Adesso la rassegna stampa. Iniziamo dal web con il giornaledelmolise.it, in apertura, osservatorio qualità dei servizi sanitari, 160 mila euro in due anni, per cosa? Quello che si chiede Pasquale Di Bello, che firma l'articolo. Le altre notizie, Guardia Alfiera, aperta la prima porta santa in occasione della festa patronale di San Gaudenzio, mentre dal termo, li parcheggi a pagamento fino a mezzanotte, da giugno a settembre. E che succede? Monta la polemica. Dai Sernia, progetti digitali, Molise, prima regione per adesione nelle scuole. A proposito di progetti, San Giuliano di Puglia, il mondo che vorrei, oltre 500 partecipanti al concorso I Colori della Vita, e all'interno c'è anche del giornale Molise, l'elenco dei premiati. Vedete, ci sono diversi richiami, diversi articoli, dai Sernia, controlli dei carabinieri in tutta la provincia, scattano denunce e sequestri. In basso, la sezione editoriali, idee e opinioni, le notizie dalla regione. E dall'Italia. Ci spostiamo sui quotidiani cartacei, iniziamo con primo piano, concerti, bancarelle e misteri, Corpus Domini entra nel vivo. Campobasso è un tripudio di colori e sapori, stasera cantano i The Colors, domenica Nina Zilli, attese migliaia di presenze, piano di sicurezza straordinario, per l'evento costato 300 mila euro. in alto, azzannati da un cane, due persone in ospedale, è accaduto di nuovo a Termoli, mentre a Venafro, miasmi del Rava, indagano i carabinieri. Andiamo alle notizie a centro pagina, c'è la politica, fuga in avanti del Romagnuolo, Mazzuto rimette ordine, dice nessuna intesa, con i 5 Stelle, la consigliera auspicava accordi, sui grandi temi. C'è il focus con quella sorta di polemica sulle dichiarazioni di Bregantini contro i 5 Stelle, Vespaio scrive appunto, primo piano, di polemiche. Le altre notizie, il Ministero della Difesa, il marito della Ministra Elisabetta Trenta, è Campobassano. Le altre notizie, il Molise celebra la Repubblica, il Governatore Toma dice, è la festa delle feste, interviene anche l'On. Patriciello, Unione Europea, orizzonte naturale. Le notizie di Spalla, abbiamo visto a Termoli, stalli a pagamento, esteso l'orario con caos e proteste, mentre da Campo di Pietra, il Comune dice no ai migranti. Altro appuntamento, su Rai 2, Mezzogiorno in famiglia, Fornelli gioca la finalissima in bocca. Siamo a fondo pagina, quando l'amore è autentico in città, c'è stato il primo, la prima unione civile, il primo matrimonio gay, scrive primo piano. Il calcio di Serie D, Campobasso, De Lucia pronto a svelare i piani, Minadeo potrebbe optare per la scrivania. Ad Agnone, anche Capitano Litterio, si schiera con Rullo, e poi in ultimo piano si chiede se l'investitura è vicina. Nel calcio di eccellenza, la LIFE tratta la cessione del titolo al Samnium di Solopaca. Uno sguardo adesso anche al quotidiano del Molise, si anima la città dei misteri. Partita la tre giorni di festeggiamenti, che porterà alla sfilata di domani mattina. In migliaia per l'inaugurazione di giovedì sera, capoluogo preso d'assalto dai turisti. Oggi e domenica intanto il clou. In alto un pezzo di regione nel nuovo governo, Molisano, il marito della Trenta. Il coniuge del ministro della difesa è appunto di matrice. Poi dicevamo delle polemiche sulle dichiarazioni di Bregantini, i 5 Stelle replicano all'arcivesco e dicono noi la vera comunità. Dibattito in casa Lega, Lega Molisana, Romagnuolo dice possibile accordo con il Movimento 5 Stelle, ma arriva lo stop di Mazzuto. Siamo a centro pagina. Sanità, epilessia, importante scoperta al Neuromed. Mentre per quanto riguarda la festa della Repubblica, il 2 giugno, il nostro patrimonio comune è l'intervento del governatore Toma. Ricorderete Razzi, show dell'ex azzurro a Isernia, è in Molise, dice su Kim Jong e Trump avevo ragione io. Gli altri titoli, Erba alta, lungo la via Matris e siamo a Campobasso, ieri saltato un evento e l'assessore Ramondo finisce sotto accusa. Unioni civili, stop ai tabù, parola di Fabio e Vittorio che vedete qui con il sindaco di Campobasso, Antonio Battista. Da Termoli, Fiat, attesa per il nuovo piano industriale anche nello stabilimento morisano. Isernia, insieme per l'Etiopia, solidarietà in musica, domani all'auditorium c'è un concerto. Anche qui il calcio di Lucia, riavvicinare la gente alla propria squadra, parla il presidente dei Lupi per le giovanili, presentato ufficialmente il torneo nazionale di Corpus Domini. Torniamo sul web con futuro Molise, migranti, il sindaco di Campodipietra dice no a qualsiasi struttura di accoglienza. E anche qui, Bregantini, il Movimento 5 Stelle è incompatibile con i valori cattolici, l'ha detto durante una intervista. Scarabbeo, il consigliere Scarabbeo ha ricevuto, dice una querela ad Andrea Greco e non è uno scherzo. Altre notizie, il guarraccino della Wiltux al presidente Toma, rilanciamo il nostro Molise senza perdere tempo prezioso. Andiamo a vedere qualche notizia nella sezione politica, qui c'è il richiamo sulla dichiarazione di Bregantini e interviene Rosalba Testamento che replica appunto all'Arcivesco, poi il Movimento 5 Stelle ha fatto propri i valori di solidarietà equità sociale e legalità, ha detto. Ci spostiamo sulla stampa nazionale che chiaramente si occupa del nuovo governo e del giuramento. Il Corriere della Sera si inizia da migranti e lavoro è una frase virgolettata. Ha giurato dunque il governo Conte, Salvini e Di Maio annunciano le prime misure, dunque migranti e lavoro. Mattarella, le istituzioni sono salde. Passaggio di consegna a Palazzo Chigi, il ministro Fontana, difendo la famiglia naturale, quelle gay per la legge non esistono, più nascite meno aborti. Dagli esteri Spagna il ritorno dei socialisti, Sanchez Premier, sfiduciato, l'esecutivo Rajoy. Uno sguardo adesso alla Repubblica, anche qui, chiaramente questo titolo, sul nuovo governo, l'Italia a Salvini e Di Maio. Conte entra a Palazzo Chigi, di due vicepremier, dettano gli obiettivi, migranti, meno arrivi, più espulsioni. Il lidere dei 5 Stelle ha lavoro per creare lavoro. Interviene anche il ministro Tria, non vogliamo uscire dall'Euro, applausi intanto a Gentiloni che lascia. Il titolo della stampa, in apertura nell'edizione di oggi, nel governo giallo-verde, meno fondi per i migranti e un piano per il sud. Conte dice, non chiamateci i populisti, Mattarella, le istituzioni sono saldi, di spalla, Fiat Chrysler, zero debiti e restano aperti tutti gli impianti, lo ha detto, l'ho anticipato Marchionne. Dalla stampa al messaggero, migranti e lavoro, prime mosse, il governo 5 Stelle e Lega ha giurato al Quirinale. Conte, non siamo marziani e lo dimostreremo. Salvini, intanto dice, taglio di 5 miliardi per l'accoglienza. Di Maio parte dal reddito, Tria, non usciamo dall'euro. Da adesso, dal messaggero a Libero, vediamo il titolo d'apertura, oggi, in occasione del 2 giugno, titola così, funerale della Repubblica. Fatto il governo, tutti brindano al Quirinale. Oggi, parate solenni in onore di istituzioni rovinate dalla crisi politica più lunga della nostra storia. E se un italiano su tre vota 5 Stelle significa che i cittadini sono messi molto male. Uno sguardo anche alla sole 24 ore, quindi svolti sui mercati, al via il governo Conte, fiducia sul contratto, Mattarella, istituzioni salde, intanto i mercati, come dire, tra virgolette, aprono all'esecutivo, piazza Affari chiude a 1,49, lo spread scende a 233. Lo sguardo adesso ad avvenire il quotidiano cattolico della CEI, subito i dossier scottanti, l'esecutivo giallo-verde di Conte giura al Quirinale, poi il passaggio di consegne con Gentiloni da Bruxelles e dalle capitali aperture di credito, festeggiano per ora anche i mercati, Mattarella intanto chiede unità, Tria rassicura sull'euro, Salvini, i migranti costano tagli all'accoglienza. Dall'avvenire adesso al mattino di Napoli l'apertura è politica ma noi andiamo a vedere questa notizia a centropagina stuprata a 11 anni arrestati tre minori figli di Camorra. Siamo a Castellammare il ricatto con i film in chat il blitz nel fortino del clan d'Alessandro. Dal mattino al tempo per chi suona la campanella la via al governo Conte giura e riceve il campanello dal predecessore Gentiloni l'esecutivo giallo-verde è entrato finalmente in carica e il tempo gli augura buon lavoro. Passiamo al manifesto di Ruspa e di governo il titolo di apertura con la foto di Salvini il governo Conte si insedia a Palazzo Chigi ma Salvini ruba la scena a tutti. Il neoministro dell'interno in permanente campagna elettorale scrive ancora il manifesto si scaglia contro i migranti e annuncia tagli ai fondi per l'accoglienza. Dal manifesto alla verità tutti i scogli del governo Conte e ce ne sono sono elencati diversi neopremier e i suoi hanno giurato fatto il primo consiglio dei ministri il professore saprà comandare senza truppe in aula su sanità lavoro e infrastrutture i dubbi più grandi alla Lega il compito di dare segnali sulla sicurezza ma è sull'economia che tireremo le somme scrive la verità siamo in attesa di vederli all'opera se faranno un decimo di quanto promesso avranno cambiato il paese dalla verità al secolo d'Italia cambiamento c'è il momento del passaggio di consegne come dire con la campanella da Gentinoli a Conte in basso finalmente il salvimaio ecco le loro prime mosse passiamo al mondo dello sport con la gazzetta ieri l'Italia in amichevole con la Francia la gazzetta titola così Italia la strada è lunga troppa Francia Mancini dice c'è differenza a Nizza azzurri battuti 3 a 1 da una nazionale già pronta per la Russia restiamo in partita per un'ora con un gol di Bonucci segnali di crescita Balottelli si conferma chiesa il migliore in campo ma abbiamo tanto da fare per il mercato Skriniar Inter io firmerei a vita difesa a 3 in vista mentre in Milan Mister Lee verso altri 10 milioni e in segue Falcao bene con lo sport terminiamo anche terminiamo l'appuntamento il primo appuntamento con la nostra informazione grazie grazie per averci seguito la seconda edizione del TG alle 14 arrivederci